Ultime notizie, Perla criticata per il video sui social, vergogna per il Grande Fratello. La vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello ha generato un dibattito acceso tra il pubblico, che sembra non essere pienamente soddisfatto dell'esito del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo molti, il risultato del 2024 non riflette il vero sentimento dei telespettatori, con molte persone convinte che la giovane abbia vinto principalmente a causa della sua relazione con Mirko Brunetti e grazie ai voti dei detrattori di Beatrice Luzzi, grande protagonista dell'edizione. Da quando è uscita dalla casa, Perla Vatiero ha concentrato i suoi sforzi sulla sponsorizzazione sui social media, attirando però critiche e derisioni da parte di una parte del pubblico online. Le critiche sono scaturite da diversi motivi, tra cui uno emerso di recente, quando qualcuno ha notato che la giovane aveva inserito il marchio della DV sotto la sua foto profilo su Instagram, rendendolo quasi invisibile e in meno attenti. Oltre a ciò, un altro video ha attirato l'attenzione del web. In questo video, Perla Vatiero sponsorizza un phone che riprende chiaramente il design di quello del marchio Dyson, suscitando ironia per il modo in cui descrive il prodotto. I commenti sui social media non sono stati teneri, con molte persone che esprimono disappunto per la natura eccessivamente commerciale delle sue pubblicazioni online. La presenza massiccia di sponsorizzazioni e pubblicità nelle sue storie sui social media ha alimentato ulteriori critiche da parte del pubblico, che ha espresso il proprio disagio per la percezione di essere trattati come meri spettatori di un business. La situazione ha suscitato reazioni negative, con alcuni utenti che esprimono disapprovazione per il modo in cui Perla Vatiero gestisce la sua immagine pubblica e la sua presenza online.